Quando hai iniziato a mettere gli ischi e se ti ricordi la prima volta che hai messo il tuo primo disco? Allora, prima volta no, non mi ricordo, però sincero non mi ricordo. Però il periodo era inizio liceo, grazie a dei ragazzi che venivano nel mio stesso liceo, c'è stato un avvicinarsi, conoscersi, iniziare a parlare di musica elettronica. Ok, poi magari successivamente uscire ovviamente ad andare a... Esatto, esatto, sì. E quindi è stato lì la prima volta che ti ha colpito la figura del DJ, quindi a vedere una persona che suonava per... Probabilmente Fortezza 2008 Collabs 3000, la prima volta che SPDJ e Libin hanno testato il progetto insieme. Ok, ok. E produci? Sì. Ok. E qual è diciamo lo strumento o se no la caratteristica del suono che produci che maggiormente utilizzi o a cui fai più attenzione? Quindi l'aspetto, no? Le drums, i vocal, cosa curi di più? Beh, sicuramente la parte di kick e bassline è una delle cose, diciamo che per me sono primarie, penso non solo per me, perché comunque se non hai un kick e una bassline che funzionano bene, poi il pezzo non regge. Ok. E come ti nascono le influenze musicali nel creare nuova musica? Sicuramente, vabbè, il fatto che comunque guardi sempre anche sia al passato, rifacendoti a chi ti può piacere più o meno, e anche a chi sta facendo musica nel tuo stesso momento. Ok. In generazione mia, ad esempio, ci sono tantissimi artisti che io seguo e stimo, siamo amici, ho un esempio, Will, ho temuto dai ragazzi di Aries Collective da Lisbona, o mi viene in mente Mita, è un ragazzo di Ischia. Ok. Comunque, sì, tutti quelli che bene o male fanno parte. Sì, sì, sì. Rilasciare musica sull'etichetta di Liebing è stato un po' un cerchio che si chiudeva per me, perché appunto un po' il primo input ce l'ho avuto sentendo lui in fortezza e poi riuscire a rilasciare musica sulla sua etichetta, ne abbiamo anche parlato insieme, siamo fatti delle grasse risate, perché appunto mi fece mind-blowing. Però è stato divertente, sicuramente Truncate con la sua label che per anni non era aperta agli outsider, cioè rilasciava musica solo lui, essere stato il primo a rilasciare musica su Truncate. Truncate, sì, poi se no c'è stata Scitec, c'è stata Ear to Ground, Frozen Border, ci sono state Uncage, cioè ce ne sono un po', ma principalmente sì direi Truncate e Sea Alert. Hai notato, oppure magari non so se ci fai caso, le più grosse differenze nel suonare magari qui in Italia e appunto in esperienze all'estero? Allora, devo dire che l'anno scorso sono stato piacevolmente colpito da una serie di realtà underground, alcune che avevano già un po' uno storico, altre nuove, di anche ragazzi giovani in Italia che stanno al passo coi tempi, nonostante comunque qui sia un pochino più difficile creare una scena underground, però ho visto tanta attenzione, cura dei dettagli, è una cosa che fa piacere perché poi non è scontato trovare delle situazioni dove a 360 gradi va tutto bene, sicuramente posso dire dalla mia piccola esperienza che ci sono delle realtà, ad esempio a Amsterdam come può essere Volt Session, poco tempo fa sono stato a suonare al Basis, a Utrecht ci sono delle possibilità che noi difficilmente abbiamo, possiamo avere, in quanto suon system, in quanto a permessi, in quanto a erari in cui puoi andare avanti, diciamo a livello di... Certo, quindi dopo te parli la differenza sull'accessibilità e la possibilità proprio di creare anche proprio degli spazi Sì, perché ti faccio un esempio, è più semplice magari che a Berlino se c'è uno spazio inutilizzato Tranti è comunque il comune, riesci in qualche modo a farlo diventare un posto Un posto che può essere una discoteca, un club, anche una realtà dove più lati artistici si ritrovano Non per forza deve essere legato solo al DJ, alla musica, al ballare, al suonare Qui, ad esempio se devo parlare di Firenze, è un po' più complicato Cioè vedo che c'è più una chiusura dei club via via che si va avanti Ok, che invece è l'aria apertura Sì, sì Ok, vero, sono d'accordo C'è un cerchio, un nuovo cerchio che vorresti chiudere? Beh Per completare soprattutto la tua parte personale, quindi artista Eh, ci sono, diciamo che ci sono un paio di etichette Ok Su cui vorrei rilasciare Possibile suonare anche o strettamente legato a... Cioè un posto anche magari può essere un obiettivo per te o principalmente un'etichetta di... Non ti nascondo che avessi la possibilità di rilasciare musica su Clockwork o Mutual Rhythm o Key Records Sarebbe molto bello Ah Ora, una di queste me la sono un po' mezza tolta perché ho conosciuto l'Eric C'è stato un avvicinamento Ok Siamo molto in sintonia Lui piace tanto la musica e il produco Certo Mi piace lui, quindi Bomba Sì E quindi se mi dovessi dire ecco un club invece? Sì Vabbè, scontatissimo Quello chiamano tedeschi per kind Però ce ne sono tantissimi Certo Viene anche in mente il gothic o il fuse Mi piacerebbe di suonare al brett Ok Perché nonostante non sia enorme Però è bellissimo Si respirano delle vibe Situazione Molto belle E la tipologia di tecno che viene proposta per me è super valida Sì perché certo non è per forza sempre legato alla grandezza o all'aspetto della carità del posto Anche spesso metterla se vissuta Magari può essere anche un posto da 20 persone per dirti una stupidaggine Esatto Però hai un'area diversa rispetto a un localone magari può essere Quindi anche molto quello fa Sì O ad esempio il The School The School sarebbe fantastico però Io ti ringrazio Spero che nel nostro piccolo tu ti sia divertito Mi sono divertito un sacco Siete stati gentilissimi La abbracciata è stata fantastica Perfetto Grazie mille Grazie 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 a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti